Non sono io che l'ho cercato! Avete avviso o no? Sono tutti i miei amici! Ma quale amico di merende? Ma quale merende? Noi ci si trovano a bere al cantinetto un bicchiere di vino lì. Io lo brucio all'inferno. Dice, l'uomo è sano, era sano di mente secondo voi. Dice, sì, come sì. Dice, sano di mente. Quanto è vero c'è il nostro Signore Gesù. Andai per tirare gli uomini. Intercettazioni canore. Tutta rin-dan-dan, darin-dan-dan. L'hanno buttato su Dio. E il Dio lo castiglia, anche lui. Mi guarda in faccia. Venire. 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 Siamo a cercare le fronte, io disse alle 3 e 30, no alle 4, ma che si cerca di imbrogliare Le acque, diciamo la verità, lo cerco anch'io, se ne ho fatto imbrogliare, io sto a promettore, io l'ho fatto imbrogliare Io sono un uomo perfetto come tutti gli altri, e ne ho la prova Ho conosco bene a tutti Grazie a tutti